Il Papa accolto nell'aula Paolo VI dalle musiche argentine, eseguite dall'orchestra della Polizia di Stato. Bergoglio si commuove e ringrazia. La nostalgia dell'autunno di Buenos Aires. Udienza dedicata all'ispettorato Vaticano che da 75 anni vigila sulla città del Vaticano e sul Pontefice. Presenti il dirigente Luigi Carnevale, Gabrielli, il ministro degli interni lamorgese, che assicura a Francesco a nome di tutti affettuosa vicinanza. Il momento lo richiede.